Ecco, ieri sera a Premolo, in Consiglio Comunale, è arrivata l'ufficialità del rapporto di gemellaggio. Questo è il primo sì? Il primo sì da parte dell'amministrazione comunale di Premolo. L'amministrazione della città di Camerino delibererà proprio nei prossimi giorni. Questo qui è l'ultimo passo, che comunque sarà anche il primo di tutta una serie di passi successivi, dell'amicizia che si è creata nell'ultimo anno tra le nostre comunità. E' nata purtroppo, dico, in seguito al terremoto dell'ottobre dell'anno scorso. Amicizia che è nata, conoscenza che è nata tramite le nostre parrocchie. Quindi Don Gianluca Colpani, nostro parroco, aveva preso contatti con la comunità di Camerino, con la parrocchia di San Venanzio. E da qui è nata questa amicizia, ci si è incontrati a febbraio di quest'anno. Insomma, la nostra delegazione era scesa a Camerino a portare un piccolo aiuto simbolico per l'asilo parrocchiale di Camerino. E da qui è nata tutta una serie di incontri, di visite. I ragazzi di Camerino hanno visitato Premolo in occasione del CRE. Don Marco Gentilucci è stato premiato dall'associazione dei Burlapom con il Burlapom d'oro, come è noto a chi si dona con gioia e mai il premio forse è stato più meritato. I nostri ragazzi sono scesi a Camerino, famiglie di Premolo che hanno visitato Camerino e viceversa di Camerino sono venuti a Premolo. Quindi è nata una grande amicizia, non solo simbolica come a volte può apparire un gemellaggio, ma le amministrazioni comunali di Premolo e di Camerino hanno voluto ratificare e ufficializzare appunto questa amicizia tra le nostre comunità con questo atto di gemellaggio che andrà sicuramente a rafforzare ancora più questa amicizia e vicinanza che si è creata tra le nostre comunità. Comunità di Camerino con una storia millenaria, importante, sede di una delle università più antiche del mondo. Per noi è un onore veramente essere amici ed essere gemellati ormai ufficialmente con Camerino e ci sarà a breve quindi in occasione del nostro santo patrono Sant'Andrea il 26 di novembre la visita di una delegazione di Camerino sia dagli amministratori comunali che di una delegazione di cittadini di Camerino in cui verrà ufficializzata prima in comune e poi in parrocchia con le celebrazioni di Sant'Andrea e poi con un pranzo tutti insieme insomma questa amicizia che porterà sempre a maggiori sviluppi.